Cinema, Teatro, Cultura. Tornano in Piazza Europa dei momenti che si aspettavano da tempo. Quali sono le caratteristiche di questa nuova stagione estiva all'insegna della cultura? Beh, sì, si riparte alla grande. Abbiamo voluto organizzare delle grandi manifestazioni quest'estate proprio per dare felicità e speranza ai nostri concittadini ma anche ai nostri turisti. 16 rappresentazioni teatrali tra le più importanti in Italia, un cartellone mai visto, è veramente di altissimo livello, quindi che ci farà passare 16 serate piacevoli e con qualche spunto anche di riflessione ma utile dopo la pandemia. Più 48 spettacoli di cinema che praticamente ogni sera avremo l'opportunità di uscire al fresco, di divertirsi sotto le stelle e di quindi guardare o un'opera teatrale, una rappresentazione teatrale o un film. Ma le sorprese non finiscono qua perché ne stiamo preparando altre, soprattutto in termini musicali, per i concerti di quest'estate e la prossima settimana andremo a definire un po' tutte le cose. Nel frattempo ricordo che avremo un festival del jazz bellissimo, 53esima edizione, con Peppe Servillo, con Antonello Ruggero, con Bollani, cioè i grandi nomi italiani. La maggior parte dei spettacoli sarà gratuita, quindi un dono alla città che noi diamo anche questa volta, il resto le cose preparate con un piccolo contributo e questo però si affianca alla scelta di far vivere tutta la città. Signor Sindaco, si è sfiorato anche il tema palio, che palio sarà quest'anno? Un palio sportivo soprattutto, visto i protocolli di sicurezza dovuti al Covid, quindi sarà soprattutto una competizione agonistica, chiaramente sempre in passeggiata a Morin, ci sarà una limitazione per quanto riguarda il pubblico, però vediamo il prossimo mese quali saranno le nuove disposizioni, se ci sarà un alleggerimento delle stesse oppure no. Quindi con un po' di pazienza scopriremo anche quello, però intanto godiamoci quello che inizierà fra pochi giorni e ci accompagnerà per tutta l'estate. La fondazione, siccome l'anno scorso, sostiene la Spezia Estate Festival, che ha un programma molto importante e molto interessante. È un sostegno all'offerta culturale a favore della città, non l'abbiamo mai fatta mancare, non l'abbiamo fatta mancare neanche nei momenti difficili della pandemia, anche attraverso il sostegno con i nostri bandi per la cultura, con le iniziative sulla piattaforma cult, col concerto pianistico online che abbiamo sostenuto e che arriva alle finali giusto nel mese di luglio e sicuramente non lo facciamo mancare quest'estate, dove non solo sosteniamo la Spezia Estate Festival, ma anche il Festival del Jazz attraverso il nostro contributo e il cinema sotto le stelle. Non faremo mancare neanche il sostegno al Paio del Golfo, un sostegno importante affinché quella che è la grande tradizione sportiva e culturale della città possa svolgersi quest'anno. Grazie. 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 Grazie.